Milanius durante la sua analisi sulla stagione di Milano sul suo canale YouTube. Fabio Caressa, giornalista, ha anche parlato di Charles de Quetelaere, hanno completamente fallito i nuovi acquisti. Tranne Tio, devo anche dire che de Quetelaere, se non lo è stato 80 a causa di lui ma al 20, forse non è stato inserito nel modo giusto. Qualcosa non andava, almeno a livello psicologico, perché ha una faccia spaventata quando entra in campo. Prima era uno spavald, quindi è successo qualcosa. Infine, anche il cambio del sistema di gioco è stato un momento di grande incertezza. Ha messo un po' di merda. Ma poi Milano è tornato a giocare quando è tornato dal suo.